Castellaneta a rischio radiazione. La società del presidente Tarquinio, domenica scorsa, non è scesa in campo nel derby di Avetrana, dinamica che conseguirà il 3-0 a tavolino in favore della squadra di Franco e un punto di penalizzazione e 500 euro di ammenda per i Valentiniani. Ma cosa prevede in questi casi il regolamento? Da questa stagione il CR Pugliese ha stabilito che la radiazione avviene soltanto nel momento in cui una squadra diserta l'impegno per quattro volte. Se il Castellaneta, perciò, saltasse altre tre partite, andrebbe incontro all'esclusione. Alle squadre che hanno già giocato contro i Biancorossi e fatto punti, gli stessi verrebbero sottratti. Sempre nel raggruppamento B, Lugento vola a quota 27, a una sola lunghezza di distanza dalla capolista città di Gallipoli. Il giudice sportivo ha ritenuto regolare la posizione del classe 2005 imparato, dopo che in un primo momento la stessa era stata ritenuta invece regolare. Ragion per cui è stato annullato il 3-0 a tavolino in favore della vetrana e ristabilito lo 0-1 maturato sul campo.